pensieri terrestri l'arca attraverso ettore cipollato a cura di roberto p domanda quindi tu dici che praticamente questi enti che sono ancora legati a pensieri terrestri continuano a pensare a cose terrestri magister e concretano delle immagini nelle sedute a effetti fisici le entità disincarnate non concretano i propri doppi materializzati e non si servono di una materia fluida di cui non si conosce ancora la natura per poterli concretare cioè l'ectoplasma e l'ectoplasma non ha dimostrato di essere alla sua concretazione massima una materia seppur diciamo sui generis e alla sua concretizzazione minima una vibrazione energetica perché l'ectoplasma può comparire e scomparire sotto gli occhi degli sperimentatori cioè passare dallo stato concreto diciamo atomico molecolare allo stato rarefatto di sola energia grazie a tutti grazie a tutti